oi la ragazzi oggi sono su happy wheels come potete vedere mi annoiavo quindi ho deciso di fare questo video a scazzo così aprire una nuova rubrica come la chiamano i grandi youtubers rubrica e niente sono stra super mega hiper raffreddato e quindi ho deciso di non fare amnesia perché non avrei potuto urlare sentite il mio tono di voce già da così non sarebbe stato divertente questo gioco lo troverete in descrizione perché è veramente fantastico ci dovete fare una partita perché è veramente spassosissimo e oggi registro con bandicam perché di solito registro con fraps spero si veda bene comunque lo editerò abbastanza decentemente spero comunque buon partiamo senza tanti indugi qua ci sono i livelli creati dal gioco appunto e poi ci sono i livelli creati dagli degli utenti diciamo che sono qua in alto ok partiamo subito con questo qua che mi ispira al backyard of resting guy che è nuovo quindi dovrebbe essere divertente spero ok un vecchietto un vecchietto che si dimena partiamo ok cazzo oh mio dio sì cazzo sì ah yes posso lanciarti vieni qua aspetta vieni 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 qua vieni qua vieni qua vieni dammi le gambe dammi le gambe dammi ste gambe oh backflip dai lasciale no ok basta ritentiamo via così e verso l'infinito e oltre e no sono stato triturato e non vale e vaffan cover ok oh mio dio front flip front flip ehi no no il cane 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 ciao 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 ok va bene va bene l'ultima volta un'ultima un'ultimissimissima volta e no mancato oh victory ok 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 procediamo con un altro vediamo un po run human run ok proviamolo eeeh cosa devo fare mi devo ah mi devo sganciare ok ok no aspettate non non oh oh no ho capito è quel film human versus alien no cowboy cowboy visi oh mio dio ah che diavolo succede oh oh merda oh merda no 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 mamma mia che culo oggi ok 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 è passato ok niente è morto va bene dai usciamo facciamolo un altro senza dopo che parli facciamo level browser vediamo play count scegliamoli legendary television angry birds boh non c'è neanche uno che mi ispira proviamo col primo a caso mettiamo il paparino vediamo un po ah sono delle scale ok no 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 ok no ok no oh mio dio il mio bambino è morto il mio figlio no ok riproviamo non ho vinto faffanculo vai vai sì no ok oh mio dio mi ha tolto le braccia sono ancora vivo sono ancora vivo posso farcela posso farcela sì ce l'ho fatta cazzo sì ma io voglio riprovare ma io voglio riprovare ok posso gettare il poter gettare il bambino oh mio dio che diavolo ok cambiamo livello l harpoon run fix non so cosa sia perché maledettamente rosso mio dio no oh mio dio mi ha infilzato ok ok vai continuo posso ancora vincere no invece no backflip ritentiamo la sorte e vai no povera bici dai non potete rovinano bici cazzo 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 no mamma mia oh cazzo è stato orribile eh no nel culo nel culo no nel culo fottutissime frecce no arpioni quello che sono ok riproviamo devo riuscirci devo riuscirci vai vai corri come non hai mai corso vai forrest vai forrest che cazzo vince ma vai così ok mamma mia scusate se tiro su di naso ma sono come ho già detto raffreddatissimo venetrate un siu chu ok no oh mio dio che diavolo ok sta laggando in un modo meglio di no vediamo un po' mettiamo play count rating happy level only for pro vediamo se sono pro cosa devo fare qua oh mio dio oh mio dio è fighissimo ah ok ok no ah ah ho capito perché per pro no no ci devo riuscire ci devo assolutamente riuscire ok ok vai 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 aggrappati oh oh mio dio che no no mi ha infilzato mi ha infilzato la testa ok c'ero quasi riuscito ragazzi c'ero quasi riuscito ah la gamba non cominciamo bene devo dire oh 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 sono ancora vivo sono ancora fottutamente vivo ok no 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 di da destra da di là si no cioè oh oh no si victory suca anche se non ho toccato vaffanculo però voglio riprovare perché voglio toccare voglio toccare il fottuto no no eh no va bene lasciamo stare va eh vediamo un po' limbo 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 questo gioco è veramente divertentissimo ragazzi dovete provarlo vi lascerò come ho detto il link e fateci un salto una partita di un min che cazzo è sta roba ah comunque questo è il gioco limbo proprio si è quello che si trova in su live arcade for sì penso di sì no 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 ok ok no sono morto eh vai no ma dai mi fai essere una pippa cazzo uomo di merda vai salta ok niente gamberotte siamo tutti a no aspetta ok 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 vai pompa 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 questa mini bici quel che sia non so come si chiama come si chiama ragazzi non lo so ah cazzo cazzo ok eh sì sì ho vinto facilissimo cazzo eh facciamone ancora uno e poi penso basti minecraft o roblox il papà eh che diavolo save or play for roblox ah ma va a fancouver no ho sbagliato you visit no the kitchen voglio vedere the kitchen ah oh mio dio oh mio dio no 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 ok va bene ricominciamo su una carota no 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 perché non rallenta non ha freni questa bici è rotta non va oh vabbè ma porca di quella ok piano con calma con calma con calma no 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 il gambo con calma vai giù su ok vai ok ce l'abbiamo oh mio dio ah no le robaccio quelle oh 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 scusa no non volevo scusami scusami non volevo figliolo non volevo eh ok dentro un rubinetto ha molto senso questa cosa va bene no si vai autocook ok va bene yeah eh si oh no mi ha rotto le braccia bastardo infame no eh ok oh ok ok dai no ce la possiamo fare che diavolo si di qua vai ok oh yeah devo finirlo almeno questo devo finirlo ok sul cucchaino dai 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 spingi con quelle gambe cazzo hai ancora due gambe vuoi muoverti dai cazzo ma non ce la possiamo fare allora eh un'oliva oh mio dio un'oliva ci segue un'oliva ci segue un'oliva ci segue ok va bene stupid dance va bene oh 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 piano 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 no non sono una stupida formica ti confondi amico eh oh ok abbiamo spaccato il vasetto scusa amico non te lo ripago tranquillo non non ti arrabbiare eh scusa ti passo un attimo su sul fianco va bene andiamo eh ok oh oh mio dio che cosa ah un piatto ok ok milk e vinciamo oh yeah che posizione brutta in cui ha messo il giocatore va bene ragazzi questo video spero vi piaccia se vi piace questa rubrica lasciate un mi piace eh in caso commentate e se non siete ancora iscritti beh fatelo e seguitemi i video se vi va ci vediamo al prossimo video voglio finire a 10 minuti esatti ciao